ciao giovanni veronesi sono leonardo firaccioni e ti mando questo video al solo scopo di farti incazzare perché lo so che il videettino mandato durante la premiazione è una cosa che ti ti sta facendo molto molto innervosire ma è giusto è giusto invece che noi iniziamo proprio a litigare perché ho visto un bellissimo documentario su age scarpelli dove sostenevano che gli sceneggiatori insieme devono litigare io voglio iniziare proprio oggi con questo video e dicendoti una cosa che non ti ho mai detto una volta ho chiesto a ceccherini se volesse più bene a me o a te e lui ha detto io voglio più bene a valeria solarino la tua moglie e credo anche che si siano frequentati un periodo abbiamo fumato qualche canna insieme un pomeriggio sono sicuro che con la scusa di andare a giocare a tennis sono andata a vedere un film di virzi e lei ha detto perché me l'ha detto ceccherini e virzi è molto più bravo di mio marito giovanni veronesi ti saluto giovanni sono felice di aver iniziato proprio questo nuovo corso tra me e te e cioè litigare litigare insieme per interposta persona in questo caso della bugliani che mi ha costretto a fare questo video dove ha detto mi raccomando fallo commuovere non ti conosce abbastanza non sa che non ti commuovi se non vedendo quel pulcioso di cane che ti guarda con quegli occhi come solo lui ti guarda nel mondo con quegli occhi innamorati e basta solo il cane ti saluto e ti ringrazio per perché frequentandosi non ho imparato ciao